39 è un passo dai 40 anni di questo trofeo. Presidente, i numeri non solo confermano il successo ma lo esaltano ancora di più? Penso di sì, perché riuscire in questi periodi a portare 700 ragazzi a giocarsi 80 partite in tre giorni non è facile, anche perché i costi dei spostamenti sono altissimi per le società. Quindi siamo riusciti in questa impresa a portare 38 squadre ad Arezzo e fare un passo importante, l'apertura del femminile che per noi era una scommessa che volevamo ormai da un paio di anni. Abbiamo come al solito riempito 14-15 alberghi di persone ad Arezzo per tre giorni e credo che questa sia, almeno credo, una delle manifestazioni che possano essere denominate fra quelle importanti del turismo sportivo. L'abbiamo sempre detto, crediamo in questa formula sia del turismo sportivo ma anche in quella sportiva. La socializzazione, tu ne sai qualcosa, il fatto di premiare tutti i ragazzi allo stesso modo prima delle finali è un format che piace molto alle società, specialmente alle società minori e forse vengono per questo volentieri da Arezzo, stanno bene, si mangia bene e quindi questi numeri e questo format ci ha permesso negli anni di crescere sempre più. Siamo soddisfatti in maniera esemplare quest'anno perché veramente a dicembre c'è stato un po' di preoccupazione perché le squadre erano iscritte erano poche. Poi piano piano c'è stato l'assalto, anzi ne abbiamo mandati via, ma dimmi dice Federico, più di 14 squadre perché è ingestibile poi per ovviamente gli alberghi e i palazzetti. 8 palazzetti fra Arezzo e provincia, 40 sono i volontari che saranno disponibili per servizio navetta, responsabili di campo, quindi è un weekend per la SBA molto impegnativo.